Una realtà giovane e proiettata verso il futuro che propone l'email marketing come mossa vincente per pianificare campagne efficaci in un mondo in cui la comunicazione deve essere studiata e mirata. L'esperienza acquisita negli anni consente a WeCloud di adottare efficaci strategie di marketing per il proprio business anche attraverso corsi formativi tenuti sia in sede sia via web. Ai nostri microfoni parla Enrico Del Sordo, amministratore delegato. Ci occupiamo di sviluppare una piattaforma per fare email marketing, quindi per mandare le comuni newsletter ma con una grande sensibilità riguardante le statistiche, quindi non solamente inviare email ma anche sapere che cosa succede quindi sapere chi clicca, dove clicca, che cosa succede, poter fare delle azioni di marketing o di vendita direttamente sul pubblico che riceve queste email. Nel mio ufficio sviluppiamo la tecnologia in toto dal design dell'interfaccia all'assistenza legata all'utilizzo stesso. La nostra soluzione è adottata molto anche all'estero, grazie a varie relazioni che abbiamo. Abbiamo già iniziato fin da subito a vendere negli Emirati Arabi, quindi abbiamo già più di 22 clienti negli Emirati Arabi tra cui hotel molto prestigiosi che utilizzano la nostra soluzione per promuovere la propria attività. Abbiamo aperto in Libano una collaborazione molto importante, proprio di recente, una quindicina di giorni fa, su cui abbiamo molte speranze e sta già prendendo piede. E non ultimo, già da un anno abbiamo una nostra azienda in Inghilterra che si occupa di promuovere e vendere il nostro servizio a Londra. Il corso di formazione è dedicato alla strategia dell'email marketing, in particolar modo le mie colleghe spiegheranno come fare utilizzare i dati relativi alle newsletter, quindi come impostare una newsletter, che colori utilizzare, come riuscire ad attirare l'attenzione degli utenti. Quindi non è vero che basta mandare mail, ma bisogna mandarle con senso, colorate nel modo giusto, con un oggetto specifico. Sono un sacco di argomenti interessanti che a volte vengono trascurati anche dai migliori marketer o dai migliori addetti ai lavori. Le mie colleghe, dopo tanti anni di esperienza, sono in grado di dare ottimi suggerimenti al riguardo. Chiaramente non è un evento autocelebrativo, ma è un evento di formazione, perché la formazione è la base del know-how della nostra azienda. Su Brescia teniamo i corsi di formazione, diciamo giornalmente, sicuramente in questa nostra sede dove abbiamo una sala di unioni dove siamo in questo momento, che tiene circa 20 persone, ma soprattutto sia su Brescia che sull'Italia che nel mondo, tramite Skype e tecnologie simili, teniamo corsi di formazione sull'utilizzo della piattaforma, oltre che sulla strategia. Quindi i miei colleghi sono in grado di spiegare, di fare formazione, non solamente Brescia su Brescia, ma anche in remoto. Molto spesso abbiamo aziende Bresciane, nostri clienti, che utilizzano molto più Skype di quanto si possa credere. Quindi chiaramente abbiamo molto piacere di avere le persone nella nostra sede. Diciamo, in ogni massima facciamo un corso ogni venerdì mattina sulla piattaforma, però utilizziamo molto la tecnologia anche per raggiungere a casa propria gli imprenditori e le loro aziende. Ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese, adesso è un termine molto generico che a volte viene utilizzato in modo improprio, però ci rivolgiamo alle aziende che hanno bisogno di comunicare, quindi all'azienda che produce biscotti, che fa le promozioni su come utilizzarli per fare colazione, all'azienda che produce assicurazioni, all'azienda che fa associazione, quindi di tutto. Perché la comunicazione tramite le mail può andare bene a chi produce automobili o al produttore veramente di qualsiasi genere o tipo e anche di servizi. Pensate al servizio di formazione stesso, tenere aggiornato il proprio pubblico, la propria clientela sui corsi di formazione, su come funzionano e sull'opportunità che essi offrono può essere un'idea da sfruttare. Chiaramente poi non mi voglio dimenticare molto. Faremo un evento di formazione simile a quello milanese, dedicato all'azienda più vicina a noi. Quindi aziende bresciane lo faremo in collaborazione con l'associazione industriale bresciana e lo faremo dedicato all'insegnamento alle aziende bresciane di qualsiasi genere e tipo del marketing e in particolar modo dell'email marketing. Quindi ogni azienda bresciana ha sicuramente, anche solo nella rubrica del proprio amministratore o della propria segretaria, una serie di indirizzi email, perché non sfruttarli? Perché non promuovere l'azienda la propria attività? Semplicemente anche facendosi conoscere. Tramite uno strumento semplice come può essere il nostro. Lo faremo il 22 di gennaio presso l'AIB, Sala Beretta, e saranno invitate appunto le aziende di tutti i settori in anni massimo. Ci rivolgiamo principalmente alle aziende che hanno bisogno di comunicare. Quindi tutte le aziende che fanno qualsiasi cosa, è generico dirlo, ma se pensiamo a un'azienda di produzione automobili, come può essere l'Audi o cose di questo genere, in aziende di questo genere, come l'azienda che fa associazione, noi abbiamo di tutto, nel senso che gli indirizzi email li utilizzano tutte le aziende, quindi può essere un'ottima occasione di sfruttare anche questo know-how che è già all'interno dell'azienda, per pubblicizzare il marchio, per pubblicizzare il prodotto, il servizio, per fare del remarketing, quindi poter sapere i nostri utenti a cosa sono interessati, e quindi sfruttare poi tutto ciò che è all'interno dell'azienda. Per conoscerci meglio è molto semplice, www.cloudemail.com, con la K, ok, e troverete tutte le nostre informazioni. Potete provare il software online, semplicemente facendo una richiesta, abbiamo una serie di video che spiegano come funziona, a chi ci rivolgiamo, è molto molto semplice. Più semplici siamo, e maggiore api l'abbiamo verso il nostro pubblico. Siamo a Brescia 2, nel cuore pulsante della Brescia dei servizi, diciamo, nel Palazzo Mercurio. Siamo in Vialdomoro 13, a Brescia 2.